Buongiorno a tutti, sono Gianluca Neri, ho 17 anni, sono centrocampista. Giovanni Promesse mi può dare l'opportunità di comunque essere visualizzato da diversi osservatori e magari inserito in diverse squadre, anche professioniste. Il mio sogno è quello di continuare magari a giocare a pallone in qualche squadra, speriamo, seria. La mia squadra del cuore è il Milan e vi saluto a tutti. Grazie a tutti.